Ciao, dimmi la verità, quanto hai già imparato dall'inizio del corso fino a qui? Credo proprio che siano davvero tante le informazioni ed i premda trucchi che ti ho già svelato dall'inizio del videocorso. Oggi ti parlo del miglior metodo nutrizionale per bruciare i tessuti adiposi ed eliminarli proprio mentre mangi. Parliamo quindi della dieta chetogenica e di come tu puoi attuarla nella tua quotidianità per dimagrire mangiando. Io personalmente sono molto emozionata quando ti immagino proprio lì di fronte al video che mi ascolti e riesci ad apprendere nuovi modi per annullare il grasso addominale, dimagrire e migliorare la tua salute. Sai, il grasso lo odio anch'io. La dieta chetogenica, in inglese ketogenic diet o keto diet, è uno schema nutrizionale che prevede un basso contenuto di calorie, quindi una dieta ipocalorica, un basso contenuto soprattutto di carboidrati ad alto indice glicemico, quindi dieta low carb e soprattutto si usano infatti carboidrati a medio o a basso indice glicemico con un contenuto percentuale proteico un po' più elevato rispetto al normale e una quantità di grassi buoni più elevata rispetto al normale. Sì, lo so, sembra un po' strano e controintuitivo ma tra poco ti svelerò il trucco. Per ciò che riguarda i grassi quindi ritroviamo un alto contenuto percentuale in assoluto ma di lipidi buoni. Quindi, come hai già dedotto, non tutti i lipidi vanno bene. L'obiettivo principale di questo metodo è obbligare l'organismo a produrre autonomamente il glucosio necessario alla sopravvivenza e aumentare il consumo energetico di grassi che sono contenuti nel tessuto adiposo. Infatti, normalmente il nostro organismo, che un po' tira al risparmio, preferisce bruciare i carboidrati, molto più semplici da usare come combustibile, cioè il nostro organismo fa meno fatica a bruciarli. Premettendo che tutto questo è assolutamente compatibile con una salute buona nella persona, voglio ricordare che non è davvero indicato tentare di sottoporsi a questo tipo di dieta senza essere seguiti dal medico. È vero che potresti anche studiare lo schema operativo giornaliero. Rimane il fatto che bisogna sempre personalizzare la dieta quotidiana e le combinazioni tra i vari alimenti. È inoltre necessario attuare in contemporanea un percorso di detossificazione, di sblocco e di drenaggio degli organi e montori. Ho parlato davvero in modo approfondito di questo argomento in un precedente video, quello dello sblocco del metabolismo, forse lo ricorderai. Ti faccio solo un esempio esplicativo riguardo ad un organo. Prendiamo ad esempio il fegato. Quando bruci i grassi, il tuo fegato è sottoposto a un iperlavoro e se la sua capacità di lavorare era già vicina al limite e tu ovviamente non lo puoi capire, quando attiverai la chitosi, succederà che il tuo fegato si sentirà male, avrai dolori e disturbi e sarà necessario interrompere questo tipo di approccio. Lo stesso può accadere per il rene che filtra il sangue o per l'intestino che assimila i nutrienti, lo stomaco che inizia la digestione attraverso l'acido clolidico e gli altri acidi dello stomaco e così gli altri organi che collaborano insieme a questi citati. Bene, adesso la chitosi inizia e tu di fatto non te ne accorgi fino a qualche giorno dopo, circa una settimana, perché il corpo e il fegato comunque hanno scorte di glicogeno da usare. Mano a mano che si sciolgono le molecole di grasso, queste vengono reaggredite dal fegato e scomposte. Alla fine si ottiene una certa quantità di corpi chetonici che sono la testimonianza dell'avvenuta chetosi, cioè la scissione dei grassi. Perché questo metodo funziona e piace? Questo metodo riesce a farti bruciare da quasi subito, quindi subito dopo una settimana, i depositi di grasso che normalmente non riusciresti a eliminare. Proprio a causa di questo obbligo che il nostro organismo si trova a dover gestire, cioè consumare i tessuti grassi come substrato per produrre glucosio, quindi l'energia di cui tu hai bisogno durante l'arco della giornata. Dopo il glucosio, l'altra fonte più importante di energia, è rappresentata dagli acidi grassi liberi FFA, li troverai scritti così. Questi vengono utilizzati da quasi tutti gli organi, tranne il cervello, il quale usa esclusivamente il glucosio e in alternativa proprio i chetoni o corpi chetonici. La quantità di chetoni presenti utilizzati come substrato energetico normalmente è molto bassa, ma il loro utilizzo può aumentare con una dieta chetogenica o con dei digiuni prolungati. Questo è ciò che in gergo prende il nome di chetosi. Una volta che la quantità di corpi chetonici prodotti aumenta, essa diventa la fonte principale di energia per molti organi e tessuti, soprattutto anche per il cervello. Ecco perché questa dieta fa bene anche al cervello, solo il fegato non è in grado di usare i corpi chetonici che esso stesso produce, ma è in grado di usare gli acidi grassi liberi FFA, in assenza o in carenza di glucosio. A chetosi inoltrata, quindi dopo qualche giorno, la maggior parte dei tessuti smette di utilizzare i chetoni come fonte di energia, i quali a partire dalla terza settimana vengono consumati quasi esclusivamente dal cervello che è in grado di ricavare da essi fino il 75% di energia, il restante 25% viene fornito dal poco glucosio presente in circolo. Ma perché ti ho fatto tutto questo bel discorso? Per tranquillizzarti e per farti capire che il cervello non patisce la fame con questo metodo. Da quando abbiamo iniziato il corso ti ho detto più volte che gli ormoni sono davvero i primi attori anche nella questione del grasso addominale, te lo ricordi vero? Anche in questo caso a rivestire un ruolo da primi attori nella regolazione metabolica dei substrati sono proprio alcuni ormoni come ad esempio l'insulina ed il glucagone. Molto spesso i pazienti che non hanno mai seguito questa dieta confondono la chetosi con la chetoacidosi. La chetosi è una condizione fisiologica, mentre la chetoacidosi è una condizione patologica che colpisce i soggetti con diabete scompensato e che porta a una concentrazione sopra livelli fisiologici di chetoni, anche 3-4 volte maggiore della normale chetosi. La chetosi infatti è una condizione che appare durante i normali processi come il digiuno, un elevato consumo di grassi e pochi carboidrati come altre metodiche che hanno a comune con la chetosi e anche dopo un allenamento intenso, quindi una post-exercise chetosis. Queste condizioni fisiologiche hanno permesso all'uomo di sopravvivere in condizioni di carestie prolungate e vanno quindi distinte da altre due condizioni come la chetoacidosi diabetica e la chetoacidosi alcolica. Ciò che differenzia il fisiologico dal patologico è essenzialmente la concentrazione di chetoni nel sangue. I chetoni hanno una concentrazione a livelli normali intorno allo 0,1 millimoli per decilitro. La condizione di chetosi si instaura quando i livelli aumentano sopra i 0,2 millimoli su decilitro. In chetoacidosi la concentrazione dei chetoni è invece superiore addirittura a 7 millimoli per decilitro, mentre questa quota può salire addirittura oltre le 25 millimoli su decilitro in chetoacidosi diabetica e alcolica, quindi i livelli sono completamente diversi. Un altro valore che contraddistingue la chetosi fisiologica da quella patologica è il valore del pH ematico. Nelle condizioni fisiologiche di chetosi il pH ematico tende leggermente ad abbassarsi in maniera quasi impercettibile per poi ritornare normale nel giro di qualche giorno. Nelle condizioni patologiche invece tale valore tende a rimanere più basso per un periodo prolungato, quindi molto molto più lungo nei giorni e decine di giorni successivi e per valori anche maggiori, portando ad una vera e propria acidosi metabolica con tutte le conseguenze del caso, alcune volte anche fatali. Ti interessa fare il punto della situazione sugli effetti positivi? Spero proprio di sì. Quindi, primo, la soppressione della fame. Una delle caratteristiche più importanti è la soppressione dell'appetito, perché a tutti fa piacere, pur essendo a dieta, non avere la fame, dovuto quindi ad un aumento della concentrazione dei corpi chetonici nel sangue, che poi vanno anche a livello cerebrale. In realtà, secondo alcune ricerche, la riduzione della fame non sarebbe dovuta direttamente alla presenza dei chetoni, ma più che altro al maggior consumo dei grassi, che tendono a rallentare anche la digestione e a restare più a lungo, addirittura nello stomaco, provocando quindi un senso di pienezza più prolungato anche nel tempo, un senso quindi di sazietà, anche di leggerezza. A ciò si aggiunge l'azione delle proteine che stimolano la colecisto-chinina, una enzima che regola l'appetito. Il secondo effetto positivo è proprio sul colesterolo ematico. L'assunzione elevata di grassi, soprattutto se provenienti da fonti animali, potrebbe avere come effetto negativo un aumento dei livelli del colesterolo, che potrebbe evidenziarsi soprattutto quando il peso corporeo rimane costante, senza una netta riduzione del grasso. Quando invece il peso tende a scendere, questo porterebbe a ridurre di conseguenza i livelli di colesterolo. Quindi questa dieta ti consente anche il controllo del colesterolo stesso. In più se mi segui e ti lasci consigliare i grassi buoni, beh, allora abbiamo davvero un potenziale di miglioramento eccellente. Il terzo effetto positivo della chetosi, questo è da osservare e controllare se non riesci a entrare in modo graduale in chetosi oppure se non segui una adeguata terapia detox fondamentale, come ti dicevo prima, potresti sentirti un po' più spostato durante la fase di adattamento. Questo comunque è un effetto transitorio. Il quarto effetto positivo è un effetto sul cervello. Secondo diversi studi, la maggior parte della concentrazione di chetoni ha effetti positivi sulla performance cognitiva. In effetti, la maggioranza delle persone che l'hanno seguita con me si sono trovati davvero bene. Cosa vuol dire la performance cognitiva? Parliamo soprattutto di quelle persone che fanno un mestiere che richiede un importante impegno cognitivo giornaliero. Quinto effetto da tenere monitorato, potresti andare incontro ad un transitorio deficit di minerali e vitamine. Un regime ipocalorico o una restrizione nella scelta dei cibi può facilmente portare ad un deficit transitorio nell'assunzione giornaliera di minerali e vitamine. Durante un regime chetogenico è stato in particolar modo evidenziato un possibile deficit per quanto riguarda i livelli di tiamina, di calcio, di ferro, B6, magnesio, sodio o potassio. Integrare con un buon vitaminico può comunque risolvere completamente questa possibilità di ogni eventuale deficit. Il sesto effetto positivo è che perdi peso solo dove vuoi tu e soprattutto bruci grasso che è lì da anni, quindi a livello addominale, sui fianchi e sulle culotte. Il settimo effetto da monitorare è l'alito acetonico. È uno dei modi che il tuo corpo usa per espellere i corpi chetonici, esattamente come vengono allontanati dal corpo attraverso le urine. Il corpo se ne libera anche attraverso l'alito. Anche questo proietto è transitorio e tu potrai facilmente risolverlo lavandoti più frequentemente i denti o alcalinizzando ulteriormente con dei trucchi che poi ti svelerò in diretta o anche utilizzando un buon colluttorio. Ti svelerò altri trucchi anche durante i webinar o in definitiva nelle consulenze online. Questo tipo di alimentazione è dal mio punto di vista la migliore strategia per togliere i cuscinetti di grasso, ma non dovrai seguirla per sempre perché questo protocollo dura solo qualche giorno o un periodo di due, massimo tre mesi, tranne in casi eccezionali, quindi casi di obesità e casi veramente molto importanti. Poi si passa comunque ad un altro metodo nutrizionale. Non ti ho accennato ad un altro tipo di soluzione che prevede l'uso di macchinari specifici come ad esempio la cavitazione, l'infiltrazione del tessuto adiposo con un farmaco che attacca direttamente il grasso. Si tratta della fosfatidilcolina. Infine esistono altri macchinari medicali di ultima generazione che possono agevolare ulteriormente l'attacco all'umore adiposo. Di questo possiamo parlare ulteriormente e approfondire anche personalmente. Infine voglio accernarti alla possibilità di intervenire anche chirurgicamente, sia con la tecnica della liposcultura, cioè l'asportazione di grassi in sala operatoria, a mezzo di cannule che disegnano il corpo nel modo più ragionevole e tecnicamente sicuro. Dall'altra parte gli interventi che limitano l'introduzione del cibo e questi si distinguono in due principali categorie. I primi ad azione prevalentemente meccanica sono degli interventi restrittivi, sono un po' più invasivi ovviamente rispetto alla liposcultura. Il palloncino gastrico, il bendaggio gastrico regolabile, la gastroplastica verticale, la sleeve gastrectomy e gli altri interventi ad azione prevalentemente funzionale, come ad esempio il bypass gastrico, il bypass gastrico ad una anastomosi e si tratta quindi in ogni caso di metodiche che richiedono comunque una stretta collaborazione tra medico e paziente e comunque di un grado molto più invasivi rispetto alla liposcultura. In quanto senza una corretta rieducazione alimentare tali procedure perdono gran parte della loro efficacia. Infatti il principale meccanismo di azione, oltre al conflitto volumetrico tra il bollo alimentare e il volume gastrico disponibile sta proprio nel dominio del senso della fame. Bene, adesso abbiamo davvero terminato tutto quello che potevo dirti in video. Mi aspetto che tu lo riascolti e che commenti qui sotto, scrivimi le tue domande, le tue osservazioni e i tuoi dubbi. Io ti risponderò direttamente qui sotto, se lo vuoi anche puoi contattarmi personalmente alla mail infochiocciolastudimediciama.it e non dimenticarti di iscriverti al mio canale youtube Lucia Prem da Costucci. Ciao, ti aspetto nel prossimo video!